Cecilia, c'è un po' di delusione, un po' di rammarico per un risultato che vista anche la partenza e la reazione del secondo tempo sarebbe potuto essere differente? Sì, assolutamente, poi perdere non fa mai piacere, quindi sicuramente il rammarico c'è. Penso che questa squadra scenda in campo sempre per vincere ed è giusto che sia così per la mentalità che si è creata. Eravamo partite molto bene, poi loro forse si sono organizzate un attimino di più, forse potevamo sfruttare meglio quei primi minuti in cui loro mi sono sembrate un po' colte di sorpresa magari da noi e forse potevamo sfruttarlo di più come anche il secondo tempo, secondo me, abbiamo avuto delle buone occasioni e ci è mancato il gol. Cosa ti lascia questa partita? Ma da una parte tanta felicità perché ho rimesso piede in campo anche con la maglia azzurra e per me non era assolutamente scontato né ritornare in nazionale né scendere in campo, quindi sono felice per questo. Dall'altra parte, come ho detto prima, ovviamente il rammarico per il risultato c'è perché ovviamente si vuole sempre vincere. C'è stato anche un bel momento a fine partita con un bel applauso con il pubblico, questa sinergia con il pubblico e la nazionale c'è sempre. Sì, assolutamente, anzi ne approfitto per ringraziare tutti coloro che erano allo stadio oggi perché per noi siete sempre fondamentali, ci avete dato la spinta oggi anche nei momenti dove magari eravamo calate un po'. È stato bello, c'erano un sacco di bambine, di bambini, è sempre bello poi quando ti chiedono foto, autografi, la maglietta, sembra scontato però in realtà fa sempre molto piacere. Elisa, ci racconti, al di là naturalmente del risultato, le emozioni di scendere in campo dal primo minuto? Sì, è stata un'emozione unica, quando comunque ha dato la formazione e tutto, ero felice, non vedevo l'ora di scendere in campo per giocare, al di là del risultato che ci ha penalizzato molto. Abbiamo espresso un buon gioco nella prima mezz'ora, a tratti comunque abbiamo espresso delle buone trame e su quello sicuramente è una cosa molto positiva. Faccio un passo all'indietro, te lo sognavi questo giorno di scendere in campo dal primo minuto con la nazionale, insomma è un sogno che si avvera? Sì, come ti ho detto prima è stata un'emozione, ancora alla fine lo è, un'emozione unica ed è stato veramente bello ed emozionante. Faccio un canale